cioè ma guardate che figata un supporto per tablet in bambù autocostruito si può mettere il tablet così o così praticamente ho preso un supporto per tablet dell'ikea che dietro ha questo affare qua che io ho smontato perché anche se si ripiega e potrebbe sembrare comodo in realtà crolla sempre poi ho preso una base di monitor da pc il monitor era rotto quindi l'ho buttato ma la base l'ho tenuta ho fatto 4 buchi in questo supporto di bambù li ho avvitati insieme alla base del pc e voilà ho ottenuto un fantastico supporto per tablet in bambù ultra resistente e tra l'altro sta benissimo vicino alla mia lampada equilibrista ciao ciao